Fine primo tempo 3 a 0, una partita che è iniziata malissimo, con l'infortunio di Viera, si sente la mancanza di Borini là davanti, anzi si vede, però una difesa ballerina, una difesa ballerina soprattutto sul terzo gol, un contropiede come se fosse il novantesimo. Dura, 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 è iniziata dura Brescia ragazzi, dopo 3 partite consecutive portate a casa con i 3 punti, Brescia oggi è dura, vedremo nel secondo tempo, per ora rimaniamo fiduciosi, c'è poco da dire, c'è poco da dire, ha incominciato la partita veramente in maniera ballerina, ballerina questa difesa, Verre si vede poco, De Pauli sul primo gol non ha chiuso bene, poteva andarci di testa e allungarla in calcio d'angolo, Viera si è fatto male al 28esimo, quindi Casame un po' troppo nervosetto, ha preso una munizione su un fallo che ha subito lui, si è arrabbiato e l'arbitro l'ha munito. Vedremo il secondo tempo ragazzi, vedremo il secondo tempo.